Perché stavolta criticate la Boldrini? Beh, direi che ci sono 500.000 motivi per farlo, ma in maniera particolare questa volta, come sempre, quello che tutto dà a lei fastidio in termini di confronto su quelli che sono i reali rischi di un'aggressione dell'Islam, intesa come cultura d'odio nei confronti dell'Occidente, ecco che lei mette il silenziatore a qualsiasi tipo di dibattito di questo tipo. Un anno fa, in occasione del 99esimo anniversario del genocidio armeno, avevamo chiesto di mettere in discussione una mozione che istituisse la giornata in memoria del genocidio armeno, che obbligasse in qualche modo a studiare questo crimine schifoso che venne perpetrato dall'impero ottomano nel 1915-16, perché a scuola non lo studiano, e soprattutto di riconoscere in qualche modo a livello ufficiale. Ma evidentemente il grande manovratore delle lobby europee che ha a cuore l'ingresso della Turchia ha silenziato per l'ennesima volta. L'anno scorso, diciamo, forse eravamo arrivati un attimino tardi noi nel chiedere la calendarizzazione, ma quest'anno l'avevamo chiesta con mesi di anticipo. C'è sempre stata negata, o perlomeno c'è stato detto, si vediamo compatibilmente con i lavori d'aula, poi settimana scorsa, ancora prima che il Santo Padre finalmente alzasse la voce su questo tema, avevamo chiesto alla Capigruppo di metterlo all'ordine del giorno. Silenzio totale e assoluto e a noi l'abbiamo ribadito. C'è stato risposto che comunque non era depositato formalmente, l'abbiamo fatto stamattina, e quindi adesso sfidiamo la Sciura Boldrini a calendarizzare per il 23 o il 24, cioè settimana prossima, quando ci sarà a Jerevan e io sarò presente in rappresentanza della Lega, la commemorazione dei 100 anni del genocidio armeno, appunto un voto in quest'aula dove si riconosce che non esistono morti di serie A e di serie B, non esistono genocidi di serie A e di serie B e soprattutto esiste una cultura che è quella cristiana, che ha imparato dopo tante guerre che cos'è il rispetto, la pietà, che cos'è la convivenza civile, invece esiste una cultura che continua a cercare di invadere e soggiugare gli altri attraverso degli strumenti di morte. Dobbiamo prenderne atto di questo e non essere ipocriti, e questo è quello che noi chiediamo con un voto di fatto alla Camera. Poi ognuno voterà quello che vuole, ci sono persone tipo Gozi che hanno ammesso candidamente che per interessi evidentemente economici loro non lo vogliono citare, noi invece la storia vogliamo ricordarla per quella che è, non perché ci sono degli interessi economici da nascondere.